Antonio Bress, segretario del PD di Padova. Oggi un flash mob qui davanti alla provincia, dove ci sarà a breve un incontro anche tra alcuni sindaci del territorio per fare il punto e trovare delle misure da adottare, possibilmente insieme e congiunte, contro lo smog e l'inquinamento. Voi cosa chiedete? Noi chiediamo che si inizi a mettere la giusta attenzione su questo tema, visto che Padova nei mesi scorsi con questa amministrazione ha dimostrato una scarsa attenzione ambientale, dal momento in cui ha rinunciato al finanziamento per la seconda linea del tram, dal momento in cui è stato smantellato il settore verde del comune, dal momento in cui si è incentivato l'utilizzo dell'auto privata a danno dei mezzi pubblici. Noi chiediamo un'inversione di marcia e di rendere strutturali le misure che sono state identificate per fronteggiare l'emergenza smog. Chiediamo quindi che con i soldi delle multe e con i soldi dei parcheggi sia finanziato un meccanismo che preveda di dare gli autobus e i mezzi pubblici in forma gratuita nei giorni in cui c'è un maggior picco di PM10 in città.